buonasera buonasera a tutti eccomi con voi ecco qui guardate ben illuminato scusate con questa nuova carta stupenda anzi questa serie successione di slide che ora vi mostrerò perché i modelli mi avvicino perché tanto poi li vedremo meglio scorrono i modelli ci indicano un una progressiva diciamo prolungamento e incentivazione dei fenomeni che erano stati previsti inizialmente che erano stati individuati sia dal modello americano che del modello europeo e che nelle missioni odierne individuano già come iniziata una prima eruzione fredda di alia polare marittima già in atto e con fenomeni temporaleschi in molte regioni italiane con gropel grandinata ad esempio a treviso dove c'erano dieci gradi alle cinque di pomeriggio oggi con un calo estremo e soprattutto individuano come nei prossimi giorni ci sarà una progressiva reiterazione di questi fenomeni con almeno due impulsi perturbati che vi descriverò dietro questi slide di cui il primo avverrà domani giovedì che incentiverà le condizioni di stabilità regioni centrali con piogge più diffusi e nevicate già sopra i mille metri sui rilievi appenninici e poi il secondo già già domenica con nuove precipitazioni che scevoleranno lungo il versante adriatico per poi far giungere questo che vedete adesso qui che è un vero e proprio impulso perturbato di artico continentale che vedete giunge dalla scandinavia invade tutta europa e buona parte dell'italia del mediterraneo portando condizioni di tempo instabile e precipitazioni nevose che potrebbero giungere anche a quote collinari al nord ovest forse anche a quote basse adesso dipende da dove si andranno a collocare i minimi ma ci sarà una successione di eventi vedete queste sono le precipitazioni che poi vi descriverò di nuovo mi sposto qua per far vedere bene queste giovedì guardate come circolano nelle regioni italiane come transitano più impulsi perturbati che arriviamo a domenica vedete sopra c'è scritto sulla data si intravede e una dopo l'altra arrivano poi arrivano al nord ovest nella fase finale della della previsione eccolo qui che transita qui siamo già arrivati ormai al ponte del 25 aprile e si susseguono gli impulsi perturbati almeno due o tre ripeto giovedì tra domenica lunedì e poi anche alle porte del 25 aprile e questa è la neve al suolo prevista dal modello europeo al termine dell'emissione c'è la neve cumulata quella che cadrà in questi dieci giorni guardate tutte le alpi il nord ovest ancora una volta abbattuto fortemente con accumule notevole soprattutto a causa del peggioramento del 25 e poi anche l'appennino questi sono gli spaghetti per la città di roma è un esempio che vi faccio dove la linea bianca della delle medie delle missioni ensemble sempre sotto quella rossa che rappresenta la media trentennale sempre sotto media almeno fino a fine missione qui siamo intorno al 23 24 aprile quindi dieci giorni di temperatura di sotto della media che si avranno a partire da oggi perché oggi le temperature si sono abbassate e iniziamo con lo slide ecco il primo peggioramento scusate mi devo mettere qualche parte si giovedì nucleo depressionario al centro italia domani precipitazioni che si invorticano nel centro italia precipitazione oltre mille metri lovesci temporali sparsi dalla dalla toscana fino alla basilicata passando anche probabilmente per la per la romagna insomma il primo peggioramento con precipitazione del calare a fredde già entrata ma questo il primo peggioramento area polare marittima guardate in quota si vede l'area polare se c'è meno 30 che che invade il nord italia meno 27 meno 28 5.500 metri di quota domani qui vedete come ci sia l'alta pressione che va verso nord e la saccatura verso di noi con questa meno 30 che entra sull'italia settentrionale e qui siamo a domenica guardate domenica il secondo impulso perturbato scivola lungo l'adriatico ancora più freddo qui siamo aria artica marittima che arriva dal dal mar di norvegia e ancora quindi quota neve che si abbassa 700 800 metri vedremo sull'appennino sulle alpi soprattutto versanti orientali nord est in questo caso perché nella direttrice molto meridiana quindi ancora il nord ovest non è molto interessato siamo a domenica ma ora cambia il 21 22 arriva il nucleo artico più intenso aria artica continentale perché arriva questa volta al mar garociale artico a s della scandinavia entra nel mediterraneo e qui dovrebbe colpire anche le regioni più occidentali qui le nevicate potrebbero arrivare a quote basse guardate come entra freddo a flusso atto guardate come entra sull'italia altro che ritorna alla media qui è meno 8 meno 6 rispetto le anomalie rispetto alla media quindi si tratta di qualcosa di veramente corposo pesante duraturo perché qui siamo ormai alle porte del 25 aprile siamo arrivati al 23 24 aprile e guardate ancora come siamo quindi sotto media è questo è il nocciolo artico continentale guardate come arriva proprio un nocciolo meno 34 nella zona più più fredda la meno 30 che invade anche l'italia di nuovo quindi in quota un secondo questo impulso dopo a partire dall'inizio della prossima settimana il secondo impulso perturbato che reitererà le condizioni di instabilità di freddo nelle nostre regioni è questo guardate come entra questo impulso vedete come invade tutta l'europa l'aria fredda questo nocciolo freddo che poi colpisce soprattutto il nord ovest la francia qui sembra aumentare leggermente le temperature ma ci sono le precipitazioni con tutto il freddo che è arrivato prima arrivano anche le nevicate sui rilievi appenninici e alpini quindi ripeto dai sette a dieci giorni di instabilità e di freddo vi ho mostrato questo è il finale proprio entra sempre di più e vi ho mostrato poi come gli spaghetti le nevicate e quindi la media temperatura e gli accumuli nevosi come vanno a collocarsi nel mediterraneo e andiamo adesso a vedere qualche carta di maggior dettaglio per farvi vedere un po nella situazione attuale soprattutto con le l'istabilità nelle regioni già settentrionali che arrivate centrali guardate qua allora passiamo alla guardate l'immagine satellitare vedete guardate quant'aria fredda sta scendendo vedete questa diciamo il nocciolo freddo si vede dalla caratteristica a chiazze leopardate di questa della massa diciamo della luminosità che scende poi arriva nelle nostre regioni va a interagire con la dorsale alpina il nord est entra proprio più liberamente il maltempo perché la barriera alpina è più bassa ma il nord ovest per il momento è riparato ma andiamo a vedere un po i fenomeni eccoli qua vedete rovesci sparsi ma abbastanza frequenti dal nord centro fino alla al puglia in questo momento guardate come sono abbastanza diffusi in realtà però lo saranno molto di più domani secondo quello che vi ho mostrato guardate poi la cartografia questa è adesso vedete la saccatura come appena entrata guardate come poi si fa sempre più come affondi sempre di più e viene continuamente rialimentata sempre più attenzione in maniera con contributo continentale vedete prima arrivava da dall'oceano atlantico settentrionale poi sempre più a destra vuol dire che sempre più continentale ancora sempre fredda perché comunque il freddo nelle regioni del nord ancora c'è le aree continentali vedete guardate come continua da fluire faccia il giro poi dalla francia entri nelle regioni italiane e in questo modo porti sia umidità e freddo e in questo modo quindi ricapitolando guardate pure gli slide che scorrono dietro di me giovedì domani prima depressione che agisce nelle regioni centrali rovesci che diventano più diffusi nevicate sopra i mille metri non solo centrali diciamo anche fino all'appenio toschemiliano un vortice che si colloca eccolo nel tirreno lo vedete dietro dietro di me ma poi domenica il secondo impulso perturbato ancora più freddo scivola lungo l'adriatico nevicate che si spingono a quota più basse rovescia anche a nord est secondo step terzo step intanto guardate da partire inizio della prossima settimana nucleo artico continentale che stando alle previsioni attuali farà un giro più ampio entra dal rodano questa volta quindi entra in gioco il nord ovest ma anche molte altre regioni del nord l'alto tirreno con nevicate questa volta che è lord ovest potrebbero spingere anche a quote basse tensione a qualche sorpresa particolare tutto questo poi dovrebbe continuare fino alle porte del 25 aprile anzi dalle previsioni attuali anche il ponte del 25 aprile potrebbe essere poi comunque diciamo non dico rovinato ma comunque potrebbe avere le conseguenze di questo lungo peggioramento in atto mi sembra di avervi detto quasi tutto avete visto la maglietta meteoscienza mentre esponevo fantastico vi do tutti i link per acquistarla nei commenti dei commenti alla termine del video continuate a farlo iscrivetevi al canale youtube ecco guardate che razza di servizio che vi ho montato e comunque la il momento è veramente particolare è vero che abbiamo avuto poco in inverno ma dal 20 febbraio sta sempre più incrementando come molto spesso è successo in quelle ultime stagioni il la dinamicità atmosferica arriva al culmine proprio tra fine inverno inizio primavera e poi anche nelle fasi centrali della primavera come è successo lo scorso anno adesso c'è una fase perturbata instabile e fredda che potrebbe durare davvero tanto forse anche 10 giorni vedete il nucleo tra meno 34 insomma tenete a mente tutte queste successioni che vi ho detto e ci aggiorniamo molto presto credo ciao ciao